Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di DocSiders Bene, ho provato ad andare a farmare un po', non abbiamo più voglia, sono tornato qua Che palle, vabbè, pazienza, andiamo pure Dobbiamo andare qui E niente, piano piano facciamo tutto Penso che non mi ricordo assolutamente Dove devo andare? Ok, ok, ho visto la guida, era di là Qua Perfetto Adesso, attenzione, dobbiamo andare qua Quindi, cosa facciamo? Ma semplice, no? Facciamo così E poi facciamo una figura di merda Quella mi è venuta bene però, insomma Provate a farla così, insomma, non è mica facile Eccoci qua Ecco qua E andiamo qua Ecco qua, vedete che non era difficile fare la figura di merda A me mi riesce così spontaneo che a volte mi meraviglio Comunque Togliamo noi che è meglio Andiamo di qua che è meglio E andiamo di qua che è peggio Salave Eccolo qui E l'abbiamo presionato Bene, bene, bene Adesso scendiamo con calma Devo andare di qua Ok Piano, con calma E adesso Adesso Devo andare là Quindi Facciamo Così Così E così Perché dobbiamo prendere tempo Perfetto Andiamo così Perfetto Andiamo giù Andiamo di qua Ottico Ok Andiamo su Perfetto Andiamo qua Grande E con calma Perché la fretta non è mai consigliera Andiamo qua Perfetto Ottico Adesso Ritorniamo su E andiamo da Walgreen Finalmente Direte Ok Andiamo qua Non ho tanti anime Vero Però Non neanche pochissime C'è nel senso Vai Scambiamo questi Oh Grazie Perché me l'hai data? Ok Vabbè Non lo so Dimmi qualcosa Però perché me l'hai dato La tua cia Vabbè Mi fa piaciore Non è che io so Io sono Un tipo Ma io prenderei Questo giusto Per fare tutto E questo mi interessava Parecchio Scusate La tua saggezza È pari alla tua forza Ok Eh So Ho preso tutto Però A me l'ho preso tutto Sì Mi piaceva Che peccato Forse Hai delle anime Per venire il mio dolore Già fatto Samael Allora Mi scusignore Mi scusignore E qua Mi dice spingi Spingo Opla E qui stavo cadendo Cado Insomma Tutte cose lineari Alla fine Andiamo Oh salve E adesso Tornare indietro Un altro paio di maniche Perché Mi dice Sei arrivato Fatta Eh Fatta la figura di merda Che sta per arrivare Ok Andiamo pure Vediamo come fare Tac Ok Tac Tac E tac Vai Ce l'ho fatta Festeggiamo Cioè bisogna festeggiare Qui È proprio parecchio Vabbè Andiamo avanti Che è meglio Andiamo pure Ricordo che sto seguendo Una guida 100% Per cercare di fare Anch'io 100% Ovviamente Io la faccio In modo Miro In modo Pi Che c'è Vole Andiamo avanti Che è meglio Ma sapessi Nessuno si può dire Andiamo avanti Andiamo di qua Ma che cosa bella E adesso ci dirigiamo Di qua Senza La cacata Probabilmente Probabilmente le farò Non devo dire Sicuramente le farò Però insomma Andiamo un po' Perfetto Andiamo qua Benissimo Guardo eh Perché se c'è qualcosa Che devo fare Lo faccio Ok Vogliamo andare qua Perfect Ok vedete Per prendere questo Qua Ma che cazzo fa Ma porca vacca Ma ogni tanto Prende e va via Eh insomma Et voilà Bene 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 Allora Adesso Eh Che abbiamo Una Spedizione Arrivo Eh Vediamo Cosa fare adesso Così Popla Adesso Dove Eh Ci è proprio Inquiamo Verso di qua No Verso di qua Ok Dobbiamo andare di qua Di qua Perfetto Cerco di Fare in modo linearo Per farvi vedere tutto Pirlate comprese Ok Ottimo E adesso Siamo qua Per dover andare qua Eh ci vuole un po' di pazienza Eh però Almeno facciamo tutto No Mi apri Grazie Poi andiamo di qua Benissimo Bene Ok Ci abbiamo fatta E adesso Andiamo da Ballgreen Perfetto Così Almeno Siamo a posto Meno per adesso Questa zona È pronta Ci mancano solo Due frammenti E presto Ripenderemo C'è poi Salvatta da panico Eccoci qua Ma nel salvatino Da farei Chi Non c'è mai Eh Non c'è senso Ok Sì No Stavo leggendo Scusate E porca vacca Eh ok Dove andiamo adesso Andiamo di qua Perfetto Ottimo Andiamo pure Andiamo a prendere Altre così Interessanti Ok Data Prendiamo a destra Qui Vabbè Sono a tuffarmi Salve Salve Eccolo qua Ok Allora stavamo dicendo Che devo andare Se il mouse funzionasse Qua Ok Proprio qua Quindi andiamo qua E andiamo con calma Insomma Nel senso Ce la possiamo fare E qua c'è Un buco Che ci interessa E che è qua sotto Ecco L'ho trovato Nel lui Direte Guarda che sentivo Voci Sussurranti Vorrei che mi arrivasse E andiamo pure Eccoci qua No che ci ha fatto male Combattere Per carità Perché comunque Ci servono i punti Lo preferisco farmi vedere Se no mi dite Dove mi fate Per di più sti punti Eh Come ve lo spiego dopo Magari mi scrivete Dopo due anni Che ho fatto un video E ho giocato 8.750 mila giochi Che cazzo me lo ricordo Sento dirmi Il punto del video Sento darmi un contesto Che cazzo capisco Dei miei salmi fatti così Mamma mia Che gente Eccoci qua A posto E questa è andata Adesso Adesso Saliamo qua Perfetto Vai Andata Sento Che si stanno facendo Divertenti Le cose Eccoci qua Ecco E noi Spetturinatico Tac Ci ha detto Tieni Ti do Il bel servito Mamma mia Che esplosione Da panico Ok Questa è andata Poi Questa qua Scusi Lei salta proprio Che un grillo E niente Non c'è il jump in attack Oh Spetturinatico Ok Ma dove va Signoro E questa è andata Allora Vediamo dove dobbiamo andare adesso Ok Proviamo ad andare avanti Dunque qua Vediamo se c'è qualcosa No Qua no Vediamo un po' Perché intanto qualcosa c'era Vi preoccupate Se no non si veniva fino a qua Eh Che discorsi sono Dove cazzo Non lo devo andare Trovato Eh Va là Che porca miseria Che cerca Eh Ok Trovato Eh Scusi signor Possendo un atti Grazie Troppo buono Eh Salve signora Eh Scusi Salve Eccoci qua Ops Si Si è fatta male Oh Porca vacca Ma che gatto ho preso Sono andata a far un giro Insomma Eh Ok Insomma Ne me lo dice Ok Scusi Il signor può andare Solti buono via Grazie Dove Sono andati a finire Signore Opla La sto sbattando Come una bambola Signora Eh Grazie Vabbè No Dove va Signora Venga qua Non se ne vada Non se ne vada Venga qua E non se ne vada Eh Se ne è andata Signore Se ne è andata Lei signore invece È così Bella e gentila Non è che potrebbe Gentilmente venire qua Grazie Eh Signora Signora Guarda I miei ragazzi Insomma Io non è che posso Bollarla su Eh È maleducazione Eh È andata via Signora Non si fa È maleducata Eh vabbè Pazienza Allora vediamo Cosa c'è qua Oh no Peppa Bene 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 Sono abbastanza Soddisfatto Ok Andiamo di qua Dovrebbe Esserci Una cesta Qua Credo Che però Non c'è Che probabilmente Abbiamo già preso Va Capì Vabbè Andiamo pure Da Bullgreen Così almeno Finiamo anche Sto pezzo Abbiamo preso Un sacco Di cose Ragazzi Senti Appendendo tutto Piano piano Un po' Di pazienza E c'è da fare Un po' Di Bet Tracking Non è Facile Cioè Non è una pala Perché non è facile Però insomma Sì Vabbè Andiamo Ok Vabbè Guardateli che roba Porca vacca E come si fa A non prendere Non si prende Adesso E quindi niente Vabbè Andiamo avanti Vediamo come fare Opla Ma si scendono Così Le scale Mi ha detto Ma nessuno Ma quanti Bucchi ci scelano Ma chiamate Un coso Lui Insomma Un architetto Ok Un coso I cosi Sapessi Io penso Che dovremmo Proviquarci In questa direzione Mamma Mica brutta cosa Ah Ce l'ho disceso Ok Dicevo Troppo salto Troppo Per potento Ok Ok Opla Ho sbagliato Vaca vacca Mi hai preso Un colpo Eccoci qua Oh Ma cos'è c'è qua Sal Ma c'è anche un posto Mi Mi di Qualcosa Grazie Molto gentilo Fantastico E vediamo dove andare Pronti Eh no Per un cazzo Bravo L'ultimo cavallo Finalmente taglia il traguè Eh vabbè Facciamo così Tanti Dico due contro uno Non è per niente corretto Dici Io mi sto divertendo però Questo è l'importante No Eh vabbè Andata Basta Tutto qua Mamma mia Eh vabbè Vabbè Andata così Salva Perfetto E adesso vediamo come morire Perché tanto Cosa vuoi che ti c'erano mai Vabbè Dobbiamo tornare indietro Vedere come fare A fare una figlia di merda Ma quello Si sa È facile Basta guardarmi Evitarmi Vai Ok Ci abbiamo fatta No a fare figlia di merda Porca becca Vabbè Vediamo qui c'è qualcosa Mi scus signori Dovebbe esserci qualcosa Una cesta Non c'è un cazzo Le ho prese C'erano già le ho prese Ok E qui è andata Adesso Andiamo da voi E dovrebbe essere l'ultimo posto Credo Memorie Permettendo Dovrebbe Essere qua Credo Vai E si va Si va Vediamo un pochettino Se ci riusciamo Poi ci salutiamo Fa anche rimo Insomma sì E mi ha fatto tanto Backtracking Però mi ha preso Di essere così E adesso è un contento Ho fatto un po' di combattimenti Un po' di punticini Dai Come si è messi La spada quasi livellata Dai insomma Le cose che comunque aiutano A fare il 100% O comunque quasi Io sto seguendo la guida Io sto seguendo la guida Ma poi se non ci riesco A me Non so se ne dica niente Allè A posto Adesso Vediamo Un po' E ovviamente c'è gente Che gli spacchiamo il culo No Eh Porca vacca E niente Ho fatto un po' di macelli Però non c'era niente Di che Quindi non mi sono stato A annoiare Adesso Torniamo Qua Esatto a monte Mi siedi da cavallo Grazie Mi siedi da cavallo Grazie Perfect Andiamo qua Ottimo Bene bene E andiamo Dunque di qua Dove deve essere di qua No Togliato Scusate Come solito E di qua Esatto Adesso ammazziamo Ancora altra gente Perché Dobbiamo andare In un posto Opla Tac Eccoci qua Che noi avevamo andati Prima Eccoci qua Eh sì signor È morto Poverino Ci dispiace tanto Ok Andiamo su Sono fatti malo Allora Vediamo dov'è esattamente Che devo andare Ecco Vedete che c'è qualcosa lì Non ho capito bene Eh c'è boia E niente Ho fatto la figo di merda Eh vabbè Ci dovete fare Vai Perfetto Non lo so Perché ogni tanto Faccio un salto Non lo prende Cioè Cade giù in automatico Da solo Che cosa strana Allora Riproviamoci Bene E vedete Come fa Ok Ce l'abbiamo fatta Cavoli Eccolo qui Vai Perfetto La peppa Bene 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 Avevo fatto un po' di tagli Perché effettivamente Sono tanti combattimenti Ripetitivi E non vi volevo Annoiare Tanto le cose più importanti Ve le fate vedere E quindi Non vi preoccupate Non vi lascio Indietro niente Allora E siamo A cavallo Vediamo se salto Dovete salvare qua Perfetto Ragazzi Vi direi che siamo Ci possiamo soltare qui Per questo video è tutto Quindi come solito Non c'è un commento Se piacerebbe E fammi sapere cosa Pensate E una seconda Sottosima Ciao ciao